www.inzion.it Un posto creato per godere di contenuti video evolutivi, selezionati per te. Contenuti che YouTube non pubblicherebbe mai. Su Inzion tutto è più facile. Hai disponibili i video recenti pubblicati su YouTube. Immediato accesso ai nostri corsi, creati da autori d'eccezione. Puoi consultare e leggere gli articoli del blog. Guardare le nostre vignette quotidiane. E avere sempre disponibili gli eventi ed i corsi. Iscriviti gratuitamente e inizia a volare in alto. Tu pensi di guardare quello che vuoi su YouTube, mentre guardi quello che vuole YouTube. In Zion. Dopo che l'hai guardata, sei migliore. Ciao raga, buongiorno. Sesta illuminazione della profezia di Celestino. State con noi perché qui c'è un grande trucco che riveleremo questa mattina. Sono a Cabiaglia che svircia. Vieni. Dai, la sigla è intro. Vieni. Saluta il tuo pubblico. Sono a Cabiaglia. e che guardare il tuo pubblico. Vieni. 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 Eccoci ciao laga, buongiorno, non potevo perdermi l'occasione in cui Sonia veniva a sbirciare per capire se ero online o se stavo facendo finta. Questa mattina con noi la nostra grande, dolcissima, bellissima, freschissima Daniela. Buongiorno Daniela. Buongiorno a tutti, ciao Luca. Ciao tesoro, senti, sei bassa? No, sono io, ho il volume basso, perfetto. Buongiorno tesoro, stato di forma? Ma sì, dai, bene. Ok, perfetto. Ti trovo in questo momento a Torino. Sì. Com'è il tempo? Eh, si è rinfrescato. Benissimo, benissimo, grazie, grazie. La rietta è gentilmente offerta dall'Ucraina, ecco. Ma lo sai? Lo sapevi? No. Ne ho parlato ieri, che praticamente di tutte le cose belle, no, che dicono che comunque tutto quello che è bello viene dall'Ucraina. A un certo punto arriva, c'era un articolo, mi sembra, sul fatto quotidiano, sì, che si è reso protagonista. Il fatto quotidiano è un signore che si fa tutte le pere, insomma, si fa tutti i giorni le pere, ecco, del fatto quotidiano. E praticamente, ha detto, dice, in arrivo l'arietta fresca dall'Ucraina. Non sai mai sentire, no? Non lo sa del genere. Benissimo, quindi grazie all'Ucraina che ci beneficia di questa arietta fresca. Allora, tesoro, gentilmente vogliamo parlare dei nostri appuntamenti. Ieri abbiamo messo appunto il calendario che possiamo trovare su www.inzion.com. Mi leggi gentilmente tutti gli appuntamenti? Grazie mille. Sì. Allora, eccoci qui. 11 settembre, Andrea Pietrangeli con Sticazzi a Frascati. 11 settembre, Davide Cristallo, lavoro su di sé con esercizi a Sanremo. 11 settembre, Lucanali, pillola rossa con le salvetti. 17 settembre, Lucanali, campane tibetane, Frascati. 17 settembre, Massimo Bianchi e Fabio Grimaldi, la trappola, uscire dalla Matrix a Sanremo. 18 settembre, Lucanali, Transurfing a Frascati. 24 settembre, Massimo Bianchi e Fabio Grimaldi, la grazia e il femminile a Monza. 25 settembre, Andrea Pietrangeli, Sorsi Cazzi a Sanremo. 25 settembre, Lucanali, campane tibetane a Monza. 25 settembre, Davide Cristallo, lavoro su di sé con esercizi a Pesaro. Poi passiamo ad ottobre. 1 ottobre, Gabriele Sannino, l'amore un giorno alla volta a Sanremo. 8 ottobre, Lucanali, campane tibetane a Bolzano. 8 ottobre, Massimo Bianchi e Fabio Grimaldi, l'anelito e l'intuizione a Frascati. 9 ottobre, Lucanali, Transurfing a Bolzano. 9 ottobre, Monica Clementi, numerologia Udine. 9 ottobre. Basta, basta, facciamo basta, sì perché ce ne sono ancora. Un altro 9 ottobre, poi basta, dai. Ok, il 9 ottobre, Andrea Pietrangeli con Sti Cazzi a Monza. Allora, c'è da dire, per chi non conoscesse Daniela, io Daniela non l'ho mai sentito dire, cioè, un cazzo, non gliel'ho mai sentito dire assolutamente, no? Magari, che cosa vuoi, no? Che, in realtà, vuol dire che cazzo vuoi, però comunque non dice, ma è veramente perfetta, no? E la costringo a dire Sti Cazzi, no? Ha dovuto imparare a dirlo, Sti Cazzi? Ma no, dai. Ma no, dai. Ogni tanto diciamo le parolacce. Ok, perfetto. Possono essere proprio edeltiche, vai. E' quello bene. Ok, perfetto. Allora, intanto... Possono servire, nei momenti giusti. Sono dei rafforzativi, per i toscani sono punteggiatura. Allora, intanto, ricordo, certo, sì. Intanto, ricordo che per quanto riguarda gli appuntamenti, potete mandare una mail se siete interessati ai nostri corsi, i miei o anche delle altre persone che stiamo curando, mandando una mail a luca.nalichiacciolenzaio.com riguardo ai miei corsi, questo riguarda soltanto i miei corsi, le persone interessate, se non vogliono pagare o non possono pagare, possono decidere e chiedere di poter partecipare a offerta libera oppure anche gratuitamente, nel caso in cui fossero impossibilitati. Quindi potete andare anche, vi faccio vedere ragazzi, perché questa è una cosa veramente molto importante per noi, nella nostra piattaforma inzaio www.inzaio.com dove ogni mattina noi mettiamo dei contenuti. Se noi andiamo nella piattaforma, vediamo che qui ci sono tutti i nostri appuntamenti. Ecco, per esempio, qui possiamo sfrecciettare, quindi andare avanti nel nostro calendario, andare per esempio su Pietrangeli, aprire l'evento di Sanremo, vediamo tutto quello che comunque riguarda l'evento, con tutte le spiegazioni, ma soprattutto quanti giorni mancano e poi anche tutto quello che comunque sono gli altri corsi correlati di Andrea Pietrangeli, dell'autore insomma. Quindi è una cosa assolutamente da non perdere, perché noi questi corsi li stiamo organizzando con dirilatori che per noi hanno un valore importante, per i contenuti, ma soprattutto per quello che portano avanti. Quindi si tratta di uscire e trovare delle soluzioni in merito al fatto di dare dei contenuti potenzianti e non dei contenuti avvilenti, dove noi che non potremmo trovare in un comizio politico, per esempio, che cercano sempre di descrivere, di dare la versione peggiorativa di quella che è la realtà, semplicemente perché in questa maniera, così le persone terrorizzate, si agganciano alla prima possibilità che vi viene offerta. Bene Dani tesoro, allora vuoi leggere tu, questa è una domanda che faccio a tutti, a tutte potrei dire, perché fino adesso mi hanno sempre assistito donne, ma tu l'hai letta la professione Celestino? No. Cosa aspetti? Ho un libro a casa, eh? L'ho capito, sento. Non mi studi anni. E come? E altre cose, ecco, e l'ho lasciata lì. Benissimo, benissimo. No, assolutamente, le letture in realtà non vanno mai forzate, suggerite sì, però per esempio a me una cosa che mi dà particolarmente fastidio è quando mi suggeriscono, anzi insistano, leggi questo, leggi questo, perché non fa parte magari di una scaletta, che mi sono fatto, eccetera, però comunque in questo momento io sto avendo dei feedback meravigliosi che mi fanno venire voglia di rileggermelo ancora il libro proprio e da parte di persone che stanno stravolgendo la loro vita grazie al fatto di aver letto e assimilato questo libro. Ricordo una cosa importante, perché molte persone quando, questo è il transerfing, però comunque ve lo dico perché si tratta anche di un suggerimento particolarmente pratico, quando noi andiamo ad inserire informazioni dentro di noi dobbiamo riconoscere e comprendere che tipo di modello di persona siamo, i modelli in psicologia sono per lo più tre, i modelli d'apprendimento, c'è il genotipo di persona che va a prendere delle informazioni, c'è l'auditivo, c'è il visivo e il cinestesico, sono questi tre le personalità e dobbiamo comprendere se una persona apprende maggiormente guardando una cosa, quindi visivo in questo caso leggere un libro sarà fondamentale, oppure interpretando quello che va a leggere, per esempio anche quando si apprende per poi poter insegnare, questa fa parte della cinestesia, di conseguenza una persona cinestesica in questo senso, oppure una persona come me che è auditiva, che apprende le cose ascoltandole, per esempio mi ricordo le voci di tutte le persone e apprendo le cose ascoltandole, per questa ragione ho messo a disposizione in piattaforma molti audiolibri, perché io leggo sempre così insomma di fatto, apprendo, leggendo, scusate, leggo ascoltando quello che è il contenuto di un libro, ognuno di noi è in forma prioritaria, ha una caratteristica di queste, ma anche un'altra, per esempio sono auditivo cinestesico, ecco in questo senso, infatti non mi ricordo mai molti delle persone, non mi ricordo mai nulla perché sono poco visivo in questo senso, quando voi comprenderete cos'è che siete, cos'è, qual è la vostra attitudine, potete apprendere un gran numero di informazioni, e credetemi, se siete auditivi e qualcuno vuole insistere, per esempio in un programma didattico o scolastico, a farvi apprendere le cose in termini visivi, non è che siete malati, semplicemente non è la vostra attitudine, di conseguenza dovreste salutare la persona che insiste e iniziare il vostro processo di apprendimento utilizzando una di queste tre forme. Tu cosa sei, Dani, lo sai? Io penso di essere visiva e cinestesico. Visiva, sì, anch'io penso così, perché sei un artista, sei una grande artista a dire il vero, ricordiamo che tutte le locandine, soltanto quelle belle, e tutti i meme, soltanto quelli belli, li fate nera. a volte mi azzarda a fare qualche locandina, mi dice, però ce lo scrivi che sei stato tu, perché io non c'entro. Bene. Allora, tesoro, vuoi leggere il primo trafiletto, la prima spiegazione della profezia di Celestino, sesta profezia celestiale, anche sesta illuminazione, prego. Certo. Allora, chiarire il passato. Più a lungo restiamo collegati, maggiore è la nostra consapevolezza dei momenti in cui perdiamo il contatto, che sono in genere i periodi in cui siamo sottoposti a un'eccessiva tensione. In queste occasioni possiamo riconoscere in modo particolare con cui rubiamo agli altri la loro energia. Quando ci rendiamo conto di come manipoliamo chi ci sta intorno, il nostro contatto diventa più stabile e noi riusciamo a scoprire il sentiero evolutivo della nostra esistenza e la nostra missione spirituale, intesa come contributo personale al benessere del mondo. Ecco, ecco, grazie, grazie Dani. Senti, vuoi andare giù, ti occupi dei commenti? Certo. Perfetto. Ci vediamo allora dopo, seleziono, come sai, se c'è qualche domanda, ci vediamo dopo e stare un po' insieme alle persone, va bene? A dopo. Vai, ciao tesoro, ciao Dani. Preziosissima Dani, ci sono tre figure all'interno, all'interno della Dinsaion che per me sono assolutamente di riferimento e che poi vanno anche ad insegnare, no, alle nuove leve, no, quella che è l'attività, soprattutto perché hanno dimostrato di aver capito la filosofia a volte a avere comunque un grandissimo talento che sono vera, ovviamente in primis, e poi Daniela e Valeria. Ecco, sono figure per me veramente molto importanti e preziose che apprezzo costantemente in tutte le loro cose che fanno quotidianamente. Allora, l'apprendimento in questo momento, no, mi è successo un po' indietro, c'era realtà ieri, no, molte persone mi fanno delle domande, noi mi accorgo subito quando queste domande sono delle domande circolari, no, le domande circolari sono delle domande che semplicemente non portano a niente, che le persone vogliono soltanto per avere, per assolversi in termini di responsabilità determinare a un'altra persona, no, la risposta all'esito di quella che dovrebbe essere invece una elaborazione personale in quanto riguarda una questione personale del soggetto che mi va a fare la domanda e me ne accorgo perché dopo la prima risposta me ne fanno un'altra e allora a quel punto non rispondo più. E chiaramente la persona percepisce questo come un atto di grande scortesia, in realtà invece è un atto di grande rispetto, li sto dicendo in questa maniera che se glielo dicessi mi farebbe poi un'altra domanda, no, quindi un loop e tu una persona per svegliare devi dare uno schiaffo, non può pensare di metterti qui a parlare con una persona che è sotto ipnosi, questa persona le sto dicendo sei in un circolo vizioso, tutte le domande che farai potrebbe esserci non io a risponderti ma Corrado Malanga, non lo so, i più grandi pensatori che sono mai esistiti, non arriveresti mai a nulla perché tu non vuoi la risposta, tu vuoi fare in modo di assolverti da quella che comunque è la tua responsabilità. Quando parlo della scuola parlo del più grande sistema diabolico infernale mai pensato per quanto riguarda quella che è la costituzione e la struttura diciamo organizzativa terrestre, per quale ragione penso così? Penso in questa maniera perché quando una persona apprende delle informazioni semplicemente perché li vengano dette soprattutto in maniera coata perché voi sapete che l'apprendimento scolastico non è un apprendimento che avviene attraverso un entusiasmo o un interesse se poi c'è un professore un insegnante contropallato che è veramente in grado di poter trasmettere l'entusiasmo anche quando francamente le cose insomma di entusiasmo ne hanno ben poco allora in quel caso è un geno ma ce n'è uno ogni milione nel caso più ordinario anche perché purtroppo questi insegnanti vengono sempre sottoposti a stress e non è un caso gli alunni vengono sottoposti a stress gli insegnanti vengono sottoposti a stress e di conseguenza quando una persona è stressata non ha tempo fisico per potersi dedicare alla pace alla quiete anche mentale ovviamente da sempre il peggio di sé e quello che tira fuori sarà sempre un qualcosa che esce fuori dalla corteccia frontale cioè dalla nostra parte rettiliana questa è una cosa molto importante quando si parla di rettiliani noi non dobbiamo scordarci che anche noi abbiamo una parte rettiliana è quella che non si rende conto delle conseguenze di quando fa qualcosa quella che cerca di prevaricare quella che non guarda la bellezza ma guarda l'utilità la funzionalità tutte queste cose insomma è una parte che di fatto non ti fa sentire gioia ma soltanto diciamo la sensazione che ce la stai facendo è una parte determinata caratterizzata dalla paura e desiderio di soprafazione determinata dalla paura quindi con la scuola quando si innesca questo processo didattico che noi non mettiamo più in discussione nella puntata di ieri ho detto una cosa che secondo me era molto importante la maggior parte delle cose che ci tengano schiavi sono quelle cose che noi non mettiamo più in discussione ma la maggior parte di quelle cose che a noi ci tengano schiavi e che non mettiamo più in discussione continuiamo a portarle avanti perché ovviamente la nostra immaginazione non riesce a garantirci qualcosa di diverso faccio un esempio se io dico che la scuola adesso lo vediamo anche chiaramente è una delle più grandi è un quacerbo di crimini che vengono perpetrate all'interno di quell'ambiente tutti saranno d'accordo però sono sicuro che molti genitori alla domanda ma tu il bambino dove lo mandi lo mandi a una scuola parentale o continui a mandarlo in una scuola statale per esempio e ti dicono la scuola statale per tutta una serie di motivi i motivi che danno sono validi però non hanno mai nemmeno cercato probabilmente di trovare una soluzione per non sottoporre il bambino in una situazione a quella maniera la scuola è sempre negativa? no nella sua struttura ideologica è negativa perché quando una persona per esempio legge un libro non dovrebbe mai dimenticarsi magari apprende delle cose non dovrebbe mai dimenticarsi che quello che va a leggere di un libro non è un qualcosa che va ad apprendere è un qualcosa che va a rievocare che è completamente diverso vuol dire che noi tutto quello che è necessario sapere nei confronti della vita lo abbiamo già dentro basterebbe avere il tempo per poterlo osservare ma soprattutto avere la consapevolezza in altri termini presenza per poter essere consapevoli di quello che sto guardando e vedendo quindi quando si considera l'apprendimento perché questo è quello di cui parla la sesta profezia di Celestino quando noi consideriamo che l'apprendimento non lo facciamo attraverso una condizione di quiete un'osservazione dove l'individuo dovrebbe essere lasciato in pace nel momento in cui lo fanno senza che ci sia un maestro che gli dice magari cosa stai vedendo sto vedendo un fiore sbagliato c'è un giardino e ti cominciano a rompere i coglioni quando una persona fa un processo innesca un processo di osservazione è lì che si sta facendo un'esperienza interpretativa impara ragazzi questa è una cosa veramente molto importante noi contestualizziamo sempre quello che non andiamo a osservare noi non vediamo le solite cose noi vediamo in termini di contestualizzazione relativamente a quello che ci serve possiamo anche travisare quello che stiamo osservando però nel momento in cui c'è questo processo di travisazione dovrebbe intervenire in noi una sensazione o di soddisfazione oppure di biasimo nei confronti di noi stessi quando non realizziamo o non otteniamo un risultato soddisfacente comprendere questo è alla base di tutto la maggior parte delle cose noi le abbiamo comprese quando le abbiamo apprese e di conseguenza le abbiamo messe in pratica noi nel momento in cui iniziamo il processo d'apprendimento dobbiamo semplicemente crearsi una sorta di connessione questa connessione è un tipo di esperienza che non abbiamo vissuto in situazioni particolari quando per esempio se eravamo innamorati ma anche quando siamo stati particolarmente nervosi diciamo delle cose incredibili no quando siamo nervosi a quella persona le rivolgiamo a degli improperi che sono una persona si domanda ma da dove li sono venuti o anche a volte vediamo delle persone diciamo particolarmente tranquille che dicono delle cose incredibili oppure anche quando siamo innamorati siamo in una condizione in cui a noi ci viene di dire di esprimere delle situazioni meravigliose ma anche quando siamo in una condizione di sofferenza di profondità non ci scordiamo che secondo quello che dicano Dante Alighieri ha scritto il più grande poema mai scritto nella storia dell'umanità in una condizione di grandissima sofferenza quindi di introspezione di ricerca interiore anche quando c'è questo genere di condizioni per esempio c'è un grandissimo approfondimento e quindi si va a toccare delle corde insolite si va oltre la nostra banalità da lì ci sono le informazioni ci sono le elaborazioni quando noi apprendiamo l'apprendimento non è mai sostanziale è concettuale c'è un tipo di esperienza che è in altri termini in altri momenti potrebbe essere tranquillamente ignorabile nel momento in cui ho a che fare con questa esperienza sulla base della mia richiesta che ho di dover comprendere determinate cose quell'elemento diventa oggetto di studio elaborazione vi faccio una domanda quant'è che non state da soli a pensare quando vi alzate la mattina cosa fate andate a tenere prendete il telefono in mano e guardate se vi hanno scritto oppure state un pochino lì a cercare di ricordare i sogni la sera quando vi addormentate guardate a chi dovete scrivere e se vi hanno scritto e vi hanno dato la buona notte a qualcuno che vi interessa oppure state lì fermi e iniziate a programmare il vostro sonno la vostra esperienza onirica questa è una cosa estremamente importante da fare per esempio questo è un elemento estremamente importante il cellulare è un qualcosa che semplicemente si sostituisce alla nostra quiete interiore tutto quello che noi potremmo apprendere per effetto di una ricerca perché ragazzi non è spasmodica non è nemmeno impegnativa è semplicemente un qualcosa che io vado a fare nei confronti della mia giornata e della mia vita in maniera interrogativa vado a domandarmi di determinate cose se lo faccio come se fosse un bambino con quella innocenza senza quella prevenzione di fatto che caratterizza poi alla fine l'indole del bambino arrivano delle informazioni meravigliose io posso domandarmi come sarà il mio futuro guardare un albero cercando una risposta in questo questa cosa qui una persona che dice ma figurati se posso trovare una risposta in un albero nel momento in cui l'interrogo sul mio futuro è una persona che non ci ha mai trovato e nemmeno ci vuole trovare perché il suo approccio è inquinato è troppo razionale quando si va a prendere informazioni dal nostro ambiente il primo requisito necessario da fare è quello di essere puliti e mettersi in una condizione di grande ricerca grande curiosità è la curiosità che poi alla fine caratterizza le situazioni voi potete tranquillamente se vi interessa sapere se avete a che fare con un cretino o con una persona intelligente basta vedere e questo non glielo puoi chiedere perché qualunque persona ti dice sì sì io sono molto sono molto curiosa quando in realtà poi vive di consuetudini però sono una persona che fa molte domande domande curiose per quanto riguarda oppure si interessa molte determinate cose quindi è una persona curiosa state tranquille è una persona intelligente una persona invece normale ho preparato questa mattina un meme che parla di questo una persona normale tutto vorrà fare tranne che fare domande quando ho parlato prima delle domande qui si parla veramente di investigazioni fare domande finalizzate al fatto di entrare dentro dei processi o interrogarsi su determinate cose piuttosto desidera avere a che fare con persone che consolidano e gli danno ragione quello che succede alle persone normali quindi la profissia di Celestino ci mette in guardia su questo l'apprendimento avviene attraverso questo genere di manipolazione le informazioni arrivano già impacchettate tu hai poco tempo tu sei stressato tu sei impaurito tu sei precario di conseguenza il pacchetto è ben accetto il pacchetto di informazioni quando una persona invece riesce a rallentarsi a fermarsi riesce a prendere possesso della macchina come diceva Gurdjieff allora a quel punto non avrà più bisogno anzi gli daranno fastidio le informazioni impacchettate dirà ferma voglio capire ma come capire te lo sto dicendo io questa è la tua comprensione questo è il tuo aspetto questa è la tua valutazione io ho un sistema nervoso centrale mi hanno dato in dotazione e lo vorrei usare se questo non ti dà fastidio alla persona che si impone gli dà fastidio ma voi ve ne sbattete e lavorate la vostra cosa guardate si aprono degli universi quando iniziamo a guardare il mondo con questa curiosità di base si apre un mondo anche dentro di noi arrivano delle informazioni meravigliose io mi sono inventato una tecnica e questa tecnica vi sto dicendo non è esportabile perché questo fa parte di una mia ricerca sulla base di una mia attitudine sulla base delle mie caratteristiche anche sulla base di come ho organizzato la mia vita la mia vita organizzata in maniera tale che quando voglio fermarmi mi fermo e nessuno mi dice nulla sparisco insomma per esempio quindi quando voglio sparire in questo senso le mie assistenti lo sanno che a volte non vogliono fare delle domande magari anche urgenti però se io faccio meditazione faccio meditazione chiudo tutto e non ci sono per nessuno e l'ho chiamata transonirica la transonirica che cos'è? ho scoperto una cosa hanno scoperto che una volta mi sono messo a volevo trovare una risposta a determinate cose era una questione particolarmente annuosa per cui mi sono rilassato mi sono messo in grande rilassamento e ho iniziato a scioggere la tensione muscolare attenzione i nostri processi mentali i nostri paradigmi tutte quelle che sono le nostre acquisizioni concettuali sono caratterizzate nella nostra rigidità fisica voi potete osservare in persone particolarmente rigide quello che si dice a Milano con il bastone nel culo una rigidità corporea che poi diventa una rigidità mentale potete osservare in persone particolarmente flessibili malleabili una grandissima apertura mentale perché c'è questo anesso fisico-psichico e che psichico che è assolutamente ineluttabile e infatti tra i due tra l'uomo e la donna chi è il più flessibile normalmente ovviamente la donna perché ha questa struttura mentale di grande apertura di grande flessibilità all'iscapito dell'uomo che normalmente si basta e basta quindi quando ho iniziato questa tecnica di di introspezione di ricerca di domanda no? di 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 autodomande diciamo che mi stavo facendo ho iniziato naturalmente ma questo è stato meraviglioso è stato come se fosse guidato perché voi non dobbiamo noi non dobbiamo mai scortarci che siamo sempre guidati ragazzi quando voi avete avete un qualcosa che vi sta dando dolore e non pensate non sapete come fare per risolverlo iniziate a parlare con il vostro angelo io francamente non so se il mio angelo esiste o no io so che quando parlo con mia nonna che è il mio feticcio quindi è il mio totem è mia nonna no? la persona a cui sono stato più legato in vita mia è un qualcosa che a me mi allarga il cuore quindi io non so se mia nonna mi sente realmente quello che so realmente è che il mio cuore si allarga quello che naturalmente fanno i bambini fin tanto che non arriva qualcuno e gli dice ma come l'amico immaginario non vedo nessun amico ma tu non solo non vedi nessun amico tu non vedi nemmeno Laura tu non vedi nemmeno gli spiriti tu non vedi nemmeno i corpi celesti tu non vedi un cazzo quindi è normale che tu non veda nemmeno l'amico con cui sta interagendo tuo figlio quanti bambini hanno avuto l'amico immaginario salvo poi fargli passare da deficienti di conseguenza queste persone poi chiudano anche questo ricordo e di conseguenza non c'è più questa strategia fondamentale quindi nel momento in cui inizio questa tecnica naturalmente come se fosse guidato vi dico inizia a rilassare il corpo naturalmente scelgo una musica solitamente sono molto sono un amante sono un estimatore di inaudi e non ascolto inaudi perché inaudi come tutti in realtà salvo salvo eccezioni e trasmette la sua musica a 420 hertz ora non mi vorrei sbagliare collegite mi se sbaglio comunque bisogna 420 hertz è stata una frequenza attenzione attenzione che è stata che è venuta fuori durante il periodo fascista a un certo punto è Hitlerbist cos'è la 432 hertz cosa che Beethoven i Pink Floyd Pink Floyd ancora non c'erano ma comunque Mozart e Beethoven che incidano a 432 hertz cos'è questa storia la cambiamo perché loro sanno loro sanno di quanto è importante la frequenza questa è una cosa che nonostante sia finito il fascismo continua a esserci questa è una cosa che a me un pochino preoccupa qui dobbiamo essere molto attenti perché per esempio dal mio portinaio ho fatto togliere un cartello che non avevo visto assolutamente nemmeno quando c'era c'era questa cosa che veniva richiesto il Green Pass per fare qualsiasi cosa che c'era scritto per accedere al condominio presente al tuo Green Pass e mi è salita la pressione di 40 atmosfere e l'ho detto di togliere istantaneamente questo cartello che era totalmente falso così però ancora si vedono nei negozi entrare dalla volta mettersi la mascherina quando non è necessario quindi facciamo attenzione quando vengono imposte per un po' di tempo delle norme assurde ottuse al fatto di perpetrare e di portarla avanti voi devono essere attenti tuttavia la 432 hertz è stata bannata è stata quindi introdotta la 420 hertz ancora 440 hertz ecco grazie Luca Guarnieri grazie Luca 440 hertz appunto e questa è una frequenza che quando io facevo infatti le meditazioni ascoltando in audio per quanto ami in audio non è una questione di musica ma la questione di frequenze ero sempre un po' teso quando invece mi sono messa ad ascoltare musica 528 9 hertz 4 hertz 432 hertz eccetera ho sempre avuto delle sensazioni meravigliose ognuno deve scoprire la sua frequenza se voi andate allora io ho Spotify che posso che posso ascoltare anche quando il telefono è offline perché è molto importante che non ci siano intrusioni elettromagnetiche però se voi trovate il modulo di poter registrare l'audio per avere il vostro apparato la musica per uscire ad avere il vostro apparato scollegato dalla rete sarebbe l'ideale ovviamente ricordo che il fatto di dormire con il telefono spento wifi spento digitale terrestre spento anche se digitale terrestre andrebbe preso accertarsi che non c'è nessuno di sotto e buttarlo insieme al televisore di sotto questi sono tutti i campi sono onde tetra che entrano in risonanza e rifringenza con le onde con le onde tetra per esempio che sono le onde del benessere che noi naturalmente manifestiamo beta e theta che manifestiamo quando dormiamo quindi si dorme male semplicemente non riusciamo a rilaborare fare tutta una serie di lavori naturali che noi facciamo durante la nostra fase onirica di conseguenza facciamo molta attenzione a queste frequenze quindi mi sono messo in questa condizione di grande ricerca di grande rilassamento con queste frequenze supponiamo 432 hertz ho fatto la domanda faccio le domande in maniera estremamente ingenua ok come se ci fosse già la risposta dentro perché come si formula la domanda è determinante per esempio mi dici come posso trovare una soluzione a questo no ti prego dammi la soluzione mi dici come posso trovare la soluzione a questo quindi so già che c'è la soluzione mi devi soltanto dire come devo fare e in questa condizione di schema corporeo rilassato musica giusta con la frequenza giusta in grande rilassamento arrivano delle informazioni non sempre ma nella stragrande maggioranza dei casi arrivano sempre delle informazioni incredibili ecco questa per esempio è una tecnica che io anche nei miei trattamenti quando me lo chiedono sì le racconto così come la sto raccontando a voi però non posso esportarla perché si tratta di una mia indagine come ho detto prima di una mia ricerca quindi il fatto di iniziare a prendere informazioni dal nostro fenomenico dal nostro mondo che ci circonda è il primo passo per essere poi delle persone estremamente virtuose dove vanno ad attingere a informazioni che non sono più canoniche consone diciamo programmate ma sono informazioni rivoluzionari voi lo vedete chiaramente quando una persona pensa o è pensata quando una persona è pensata parla sulla base di quello che gli hanno detto quando gli dico cosa fai giulivo dove vai a votare e loro mi dicano vado a votare perché chiaramente non metto salvo la persona non la sua mente ma la persona la salvo perché è un ingannato è un fregato la persona mi dice vado a votare perché sennò vince il PD capite non è una frase sua perché se pensasse li direi ci arriverebbe alla conclusione che anche alle elezioni precedenti le hanno detto così a tutte le elezioni le hanno messo un mostro per sconfiggere hanno detto tu devi essere in contraposizione con questo se sei in contraposizione ognuno aveva le sue contraposizioni le hanno votate e poi cosa è successo in tutte le elezioni del mondo che hanno comandato i comunisti capite quello è il fatto quindi questo quando una persona è pensata non riesce a rendersi conto di questo semplicemente adotta un sistema perché poi così ha la libertà secondo lui questa è la ricama libertà di poter dire ah mi hai ingannato non sono un coglione la persona che vota vota un criminale che si vede bene che è un criminale e viene fregata non dice sono veramente un grandissimo coglione ma con una c così coglione dentro e fuori non dice questo dice ah mi hai deluso Beppe Grillo mi ha fregato no sei un coglione perché che Beppe Grillo non era pulito dopo un po' si vedeva come ha trattato il sindaco di Bologna per un sindaco mi ricordate il sindaco di Bologna sono successe delle cose che bastava stare attenti per capire che tipo di persona fosse in questo senso quindi è molto importante che lo iniziamo a pensare così l'ultima cosa che vi voglio dire relativamente alla sesta profezia di Celestino o la sesta profezia celestiale perché se lo fosse perso in realtà c'è stato un problema di trasliterazione per cui è stata chiamata di Celestina che in realtà non c'entra nulla perché in realtà la traduzione fisiologica sarebbe stata la profezia celestiale è questa quando non si va a cercare le questioni delle nostre irrisoluzioni quando noi abbiamo andiamo a cercare di risolvere dei problemi cosa facciamo cerchiamo di andare a cercare nel passato e quindi una persona si domanda per quale ragione scusate chiudo whatsapp perché mi stanno arrivando 200 miliardi di messaggi e mi danno fastidio quindi cosa succede quando ecco qua cosa succede quando una persona è nello stato in cui ha un disagio inizia a dire è certo ha un disagio perché io ho avuto un problema in questa maniera ha avuto lo zio che mi ha dato lo schiaffo quando non era il momento e di conseguenza questo mi ha caratterizzato ho paura degli zii quando vedo qualcosa che assomiglia allo zio io ho dei problemi e questo ha la sua diciamo parte di verità effettivamente però ha anche la sua parte che è estremamente diabolica perché ti fa vedere soltanto il problema non ti dice come puoi risolverlo quello che ti mette nella condizione invece di poterlo risolvere è il fatto di domandarti ok va bene ok mi ha dato uno schiaffo va bene ma io se non avessi questa scusante scusante cosa dovrei fare che non voglio fare ci possiamo fare anche una domanda no? per quanto riguarda le malattie supponiamo eh con tutto il rispetto per chi vive un'esperienza di malattie no? però non dobbiamo mai scordarci che la malattia arriva per quanto riguarda la nostra evoluzione allora cosa dovrei fare nella mia vita che non voglio fare se fossi sano o se fossi sano ecco questa è una domanda estremamente importante perché quando si risolve questa risposta quando si dà una risposta e non ce la può dire nessuno quando io mi rispondo a questa condizione io trovo un'energia pazzesca eh attenzione quindi vi sto dicendo in questo momento che quando la psicologia diciamo moderna tra virgolette contemporanea quantomeno ti dice di andare a cercare le cause del passato rispetto al passato le cause della sofferenza nel passato la provvista di Celestino mette in evidenza che è importante invece comprendere cos'è che io voglio fare quali alibi mi sto procurando ci sono persone ancora che si trascinano dietro persone di 70-80 anni che si trascinano dietro un problema genitoriale le cose sono due o ti hanno perpetrato il più grande crimine dell'umanità a te tanto che te lo stai ricordando ancora oppure per te un alibi è una scusante per sacrificare la figura sicuramente probabilmente deprecabile però una figura che alla fine ti impedisce di potertene liberare e continuare a avere questo fardello che ti porti dietro per essere la metà di quello che sei l'ultima cosa che vi voglio dire relativamente alla profizia di Celestino ragazzi ci sono delle persone tra di noi che si sono accorte ma non si sono accorte dell'inganno si sono accorte del loro senso che hanno in questo momento che è quello poi di risolvere un inganno ok quando una persona si muove in questa maniera fa una rivoluzione pazzesca quando una persona si accogge di se stessa e si rivela se stessa non ha più problemi perché tutto quello che gli è successo gli serve è scuola l'università che ci hanno detto essere accademica non è un qualcosa dove tu vai a prendere le lezioni di vita vai a prendere le lezioni perché il ruolo che tu andrai a scimmiottare nella vita la vera università sono le nostre difficoltà vogliamo gioire delle nostre difficoltà diamogli un senso noi non soffriamo perché abbiamo un problema noi soffriamo perché non comprendiamo il senso del problema quando lo comprendiamo diventa un virtuosismo quindi quando una persona si rivela a se stessa e si rende conto della sua missione cambia completamente l'energia non ha più paura smette di desiderare di piacere agli altri particolarmente schietta non è che è corretta perché è corretta è corretta perché non può fare diversamente perché non può arrivare a corrompere la sua anima in maniera così evidente perché sentirebbe un distacco rispetto a quel contatto che invece ha ripristinato con se stessa o con se stesso nel momento in cui va a vivere e a pensare a tutta una serie di esperienze che ha vissuto e che di conseguenza ne hanno procurato dolore le va a investire e questo diventa un materiale pazzesco per stare insieme alle persone poter aiutare le persone e poter di conseguenza manifestare il proprio ruolo nei riguardi delle persone dico nei riguardi delle persone perché nel mondo non c'è niente di più importante della gente voi potete comprendere se siete felici e fortunati soltanto quando siete innamorati delle persone delle vostre persone francamente a Bill Gates o Brunetta non è che proprio un sentimento di affetto però quando voi siete innamorati di tutte quelle persone che le vedete che sono torturate che sono massacrate che sono illuse che sono confuse quando voi provate amore per questo potete star certi che siete a un livello superiore in grado di poterle proteggere voi siete delle persone celestiali quando voi siete e manifestate quel genere di sentimento danni tesoro ti tiro su aspetto vado posso no cosa sta facendo sto aspettando eh stai facendo un gargarismo momento momento catartico per Daniela che sta procurando beh in questo momento ha deciso di fare un esercizio non so Daniela posso singhiozzo bruttino cosa sta succedendo starnuto la vedo dalla finestra di cortesia mi sta facendo scendi per dire se no posso aspetto vado sigla no vado posso sì ora sì fammi sì con la testa Daniela ma cosa è successo cosa ti è successo Daniela niente mi stavo mangiando una barretta perché avevo una fama incredibile avere il boro alimentare quindi Daniela con il boro alimentare cosa sta forne perché lei è sempre pronta tutte le volte è sempre precisa così ma anche la mattina quando si sveglia così precisa ha fatto così assolutamente quindi non credo cosa stesse succedendo ho pensato un malore comunque era soltanto una barretta sì il boro alimentare non l'avevi capito cosa è la fine va bene infatti mi scrivi infatti mi scrivi Luca scusami mi sto scofanando una barretta no no è vero no sto scherzando ovviamente benissimo allora non ho voluto guardare i commenti perché se no poi mi sconcentro vado un po' vado un po' di getto quando parlo di queste cose ecco cosa hanno detto le persone tutto chiaro quello che ho detto perché a volte anche io a volte anche io non è che mi apisco molto devo essere sincero allora guarda io ho raccolto un po' sono più che altro commenti domande sul argomento non ce ne sono no sai che invece ce n'è una cioè guarda c'è Dana posso mettertene in evidenza posso certo eccolo qua vai lei è Dana è arrivata adesso ciao Dana buongiorno Luca potresti per favore parlare dei drammi del controllo nella profezia vorrei capire come interagire con una persona con un dramma di controllo troppo riservato grazie mille sì allora il fatto è questo quando le persone quando sono quando sono in metto giù tesoro le persone quando sono in in deficienza energetica tendono a controllare gli altri l'elemento di controllo però che avviene è sempre per effetto di paure che noi suscitiamo quando una persona è controllata o manipolata da un'altra persona in realtà ha sempre una sua paura che sta manifestando che sta temendo dove si aggancia la guzzino quindi una cosa estremamente importante prima ancora di dire come fare come non fare dobbiamo comprendere che ci sono delle paure che di fatto poi danno l'assist a queste persone perché ci possano controllare c'è un altro aspetto questo è un aspetto importante perché poi se si tratta anche di paure abbastanza importanti non è che una persona se le risolve dal giorno alla notte ma soprattutto alcune paure alcuni aspetti diciamo depotenziati di noi stessi vanno un po' rivisitati nel corso dei tempi perché magari adesso si manifestano in un modo poi si manifestano in un altro insomma dovrebbero essere poliedrici anche nella gestione di questi e però c'è anche un altro aspetto un altro aspetto molto importante che è quello della percezione che noi abbiamo delle persone allora ve la metto da questo punto di vista quando una persona voi voi non siete medesimi con chiunque ok con alcune persone siete più intelligenti siete più simpatiche siete più spigliate siete più siete in una determinata maniera con altre siete meno intelligenti siete antipatici viene di essere dure eccetera eccetera no com'è che vi siete così condizionati perché siamo sempre condizionati dagli altri il condizionamento la parte del nostro ambiente la parte delle persone con cui stiamo è continua e costante una persona che dice a me non mi condiziona nessuno sì ok un minuto poi dopo un po' finici per essere condizionato quindi noi allo stesso tempo diamo la medesima percezione ci sono delle persone che con noi sono scontrose perché noi abbiamo delle caratteristiche se noi parliamo di queste caratteristiche come di problemi noi saremo il problema impersonificheremo il problema pensiamo a queste caratteristiche come aspetti e diciamo una cosa pensiamo questo è il frilling ecco questa è una lezione vera e propria di transsearching si chiama frilling e ha una potenza inaudita solo che mi accorgo nonostante che questa sia una tecnica estremamente efficace mi accorgo che quando dico e racconto questa tecnica le persone pur di non voler cambiare la propria posizione decidono di non farla anche se risolverebbero il problema perché molti dei problemi noi li vogliamo portare avanti perché ci legittimano eh no eh mio padre è stato un criminale quindi lui si merita il mio rancore io a questa persona le vorrei dire guarda che tuo padre si nutre del tuo rancore te lo dico se proprio li vuoi male dovessi non trovare di più rancore e ma come faccio intanto cambia il modo di percepirlo quindi il frilling è questo quando una persona ha un'interazione depotenziante con voi quindi vi rompe le scatole vuol dire che questa persona intrinsecamente sa che tu sai il suo punto debole e si muove in anticipo affinché tu possa essere inibita sul fatto di poter manifestare la tua opinione percezione manifestazione o mettere in evidenza del suo punto debole quindi è semplicemente una mossa di difesa una mossa di difesa che il nostro interlocutore perpetra al nostro discapito ma solo perché lui sente e sa che tu pensi di lui che è una persona di un certo tipo quindi quando tu nel tuo nella tua solitudine prima ancora di incontrarlo con te stessa inizi a pensare positivamente a questa persona in relazione a quell'aspetto che tu sai essere quello che puoi da è la scaturigine l'aspetto scaturigine in tutte quelle che sono le vostre discrepanze a un certo punto lui non ha più bisogno di tutelare questo aspetto e smette di essere deprecabile ve la rifaccio ciao Giorgio ciao grande che bello Giorgio andiamo a trovare Giorgio eh Degino Alella Giorgio ve la rifaccio e faccio faccio conto di di Daniela Daniela sa che io sono sono sotto certi aspetti sono scemo non riesco ad arrivarci io so che Daniela sa che sono un coglione allora per inibire la sua possibilità anche di manifestare diffidenza nei miei riguardi inizio a trattarla male il mio modo di trattarla male non è perché io voglio male a Daniela perché così inibisco la sua possibilità e autorevolezza di poter dire guarda sei un coglione ok quindi nel mio momento in cui manifesto questa paura io mi difendo aggredendo Daniela e chiudendo la sua possibilità di poter essere una figura attendibile che mi può dire tu sei una persona così un po' particolare se però Daniela inizia a pensare di me come di una persona intelligente che comunque è spigliata e ce la fa bene anzi penso proprio che faccio in realtà questa cosa nel momento in cui si sforza in questo io non ho più bisogno di tutelare quella parte che sento a repentaglio mi sento tranquilla e quindi non ho più bisogno di aggredirla questo è il frilling è un principio che funziona al 100% quindi mi raccomando ragazzi se avete qualche problema di relazione e i nostri problemi sono sempre di relazione usate il frilling perché è veramente efficace voi siete di fronte a una scelta potete risolvere un problema o potete aver ragione solitamente quando siamo forzati a voler aver ragione non si risolve il problema quindi voi scegliete questa cosa qui la vostra umiltà o arroganza non c'è niente di male solo che se una persona manifesta la propria arroganza oltre a non risolvere il problema rimane vittima di quella condizione che potrebbe sciogliere in un istante ok prego allora aspetta che vado a vedere i miei preferiti mi auguro di averti risposto Dana fammelo sapere allora Ross scrive Luca io sono divorato dalle mie paure non riesco a capire la strada come uscirne ti devi innamorare devi innamorarti devi abbandonarti alla sconfitta prima di tutto questa è una cosa molto importante che la nuage non ne parla e invece ne parla molto il transurfing abbandonati alla sconfitta di ok sono destinata a sofferire bene adesso ripartiamo ok perché se una persona cerca di gestire le paure che incombano a un certo punto poi diventa sempre più impegnativo nel transurfing va di in zeland dice è come portarsi dietro un maiale no così che tu è il tuo sostentamento però in realtà non ti permette di poter fare altro lascia andare il maiale e poi per il sostentamento ci penserai poi qualcosa arriverà in quella maniera ti accorgi che ha molti più interazioni e molti più possibilità di poterti approvvigionare in questo senso allora le paure per risolverle ci sono dei modi ci sono due modalità una è quella di andarle a vedere le vai a vedere e scopri che poi le paure nel 90% sono creazioni della tua mente non tua rossica che sei tu lo faccio io lo fa Sonia lo fai tu lo fa chiunque quindi il 90% della caratura della sofferenza è creata mentalmente non esiste e le vai a vedere quindi tutto si ridimensiona l'altra modalità per andarla a vedere basta abbandonarsi a questo andare a ho paura di rimanere da solo benissimo c'è un finanzato con cui non sto bene che mi sta al suo coglione sento che pulsa non lo voglio più lo lascio lo lascio e da lì in poi vai in conto una paura è così che vai a vedere le paure è solo per fare un esempio oppure gli dai un titolo gli dai una motivazione e dici ok allora la mia missione visto che comunque io ho senso soltanto se ho una funzionalità la mia missione è quella di andare ad aiutare gli altri quindi la mia paura per me è un tesoro è un propulsore che mi consente di poter andare e di impiegare il mio bagaglio di esperienze andare a dedicare agli altri attenzione a non fare gli psicocattolici come a volte è successo in quei gruppi di autoaiuto succede in quei gruppi di autoaiuto e sono stato autoaiuto dei cornuti e sono stato tradito dal mio marito l'altra l'altra che interviene anch'io mio marito mi ha sempre fatto le corne l'altra dice figuratevi ho anche una fidanzata mi faceva le corne eccetera eccetera e quindi le persone pensano di stare bene perché mal comune pippo baudo ma non funziona in questa maniera quello che invece dovrebbe essere potenziante è semplicemente il fatto di dire ok io in solitario ho una missione la missione non è che c'è qualcuno che te la dà la missione te la prendi tu sai cosa devi fare per gli altri perché non esiste niente di più importante degli altri tu anche perché gli altri sono te stesso tu quando vedi gli altri in tutto quello che vedi negli altri nel bene e nel male tu cosa pensi di vedere vedi te stesso vedi te stessa Ross quindi tu ti rendi conto che puoi dare qualcosa agli altri che è un bagaggio immenso e investi tutte le tue cose per andare avanti gli dai un titolo una motivazione ti consiglio visto che stiamo parlando della potenzia celestiale se tu vuoi dedicare questa risoluzione fai due cose ti prego scusami se ti dico così solitamente non do mai compiti così a persone che non conoscono però queste sono così sono così diciamo secondo me indicati che qualunque persona le potrebbe fare fai due cose uno non chiamarla più paura non dirlo mai più ok la paura la paura le parole hanno un potere pazzesco quando vengono le persone dicano che hanno la depressione vi dico no chiama la gioia di vivere diceva cinque anni che c'è la gioia di vivere in questa maniera devi cambiare il nome perché il nome è importantissimo non si può la parola è determinante non si può sottovalutare questo quando qualcuno non è d'accordo su questo una volta è successo in studio e l'ho detto guarda il nome la parola è molto importante devi fare attenzione a come parli la parola non c'entra perché se lo so che comunque per me è una cosa potenziante anche se dico quella parola non mi succede nulla ho fatto benissimo adesso facciamo un test era una signora rispettabilissima e le ho premesso io quello che ti sto per dire non lo penso assolutamente penso il contrario penso che tu sia una grandissima donna però ti volevo dire troia ascoltami brutta puttana senti zoccola allora ha capito dopo un po' questa vi cambiava espressione e mi sono fermato io non lo penso davvero quello che ti sto dicendo comunque ascoltami baldracca e questa le cambiava l'aspetto perché perché la parola agisce in maniera tavica nell'individuo non puoi pensare che la parola sia ininfluente è estremamente potente alla fine della seduta questa persona mi ha detto devo fare attenzione a usare le parole è fatto per grazie al cazzo troia è importante questa cosa è veramente molto importante non la chiamare paura chiama la gioia dagli un nome potenziante e poi prenditi un buon libro a questo punto si sta parlando della profezia celestiale o di celestino per cui tu puoi leggerti questo libro ti prendi questo libro e inizi il percorso e inizi da sola ti guardi leggi e vivi leggi e vivi e ti porterà poi a un certo punto in un conseguimento questo è un percorso questa è una strada altro discorso se preferisci se no ti mette accanto un maestro c'è notantini c'è notanti dei maestrini ti mette accanto un maestro che tutte le volte che fa qualcosa dice eh eh sbagliato stai sbagliato che ne so ti rompe coglione tutto il tempo tu ti fa questo viaggio in solitaria che fa questo approfondimento in compagnia di un grandissimo libro potrebbe essere anche Shantaran potrebbe essere anche qualcosa di Armanes potrebbe essere che ne so io Siddhartha per esempio potrebbe essere il gabbiano Jonathan Livston no? di Richard Bach potrebbe essere libri di Eckhart Tolle non è il potere di adesso che ne so grandi libri ovviamente grandi libri ok e ti inzi il percorso io ti suggerisco la profezia di Celestino visto che comunque di fatto è proprio azzeccato per questo momento ecco grazie a te Rose mi auguro che questa cosa più ti serva prego Dani allora andiamo a vedere nella Bibbia c'è scritto che uccide che la lingua della spada sì Alexandra ciao vai Giulia occhipinti dice da cosa dipende la sensazione di essere per virgolette cattivi a volte sento questo per alcune cose cattive fatte nella vita la sensazione ma allora la cattiveria è sempre un punto di vista ok perché dal punto di vista di Bill Gates sono cattivo insomma questa è una cosa importante anche dal punto di vista di Draghi penso anche dal punto di vista di Brunetta sono cattivo quindi la cattiveria ora io poi voglio fare una live estemporanea no mentre cammino vorrei parlare qualcuno vorrei dire un po' cosa sul karma no che le persone ancora dicono eh avranno il loro karma negativo come se avessero mai visto una volta puniti quelli che fanno dei crimini inenarrabili quindi dovrò dire qualche cosina sul karma questo darà un po' di fastidio alle persone però purtroppo vi darà fastidio perché saranno di fronte alla realtà delle cose e quindi di conseguenza il loro sogno che non si poggia sulla realtà ma sull'illusione sarà infranto quindi qualcuno si arrabbierà però non mi interessa perché se ero qui per fare il compiacente facevo la velina e di conseguenza parlerò del karma e metterò in chiaro alcune cose del karma quindi sensazione di essere cattivi parliamo di felicità e infelicità che è un aspetto soggettivo tu ti senti alcune cose tu quando senti di fare la cosa giusta è quando secondo il transurfing c'è l'anima e la ragione che sono d'accordo e di conseguenza senti una grandissima espansione e soddisfazione dovresti imparare se già non lo fai Jack se sei un ragazzo credo dovresti imparare caro a sentirti e a non farti dire dagli altri o da un sistema se la cosa che sta facendo è giusta o no ma semplicemente viverla ricercando la soddisfazione interiore il centro siamo sempre noi Dana dice grazie Luca Daniela bellissima risposta molto funzionale la live da mettere nel goal del memory grazie sempre troppo esagerata con me grazie comunque in tutte le live sono le trovate oltre nella playlist di youtube che comunque è Claudicanti perché sapete dico una cosina fuori posto mi fanno saltare a me mi fa ridere ragazzi c'è stato ieri un grandissimo youtuber che però ha questo canalone grosso dice delle cose incredibili questa ha fatto un'intervista in un altro canale dove c'è stata la registrazione la testimonianza di un papà sui effetti collaterali del punturino una cosa che se solo io faccio un titolo in questa maniera mi chiudono casa mi chiudono tutto e questo se è dispiaciuto perché in un'intervista dove ha fatto questa dichiarazione hanno tolto il video in un canale hanno tolto il video si sono tutti scandalizzati ma i miei video non me li hanno mai tolti non mi hanno tolti i canali capite quindi sono in questa posizione e rimango sconvolto quando queste persone fanno le vittime potrei sparire perché hanno tolto un video se hanno tolto un video non sparisci caro mio non ti fa niente nessuno ok e non lo so perché non ti fa niente nessuno però non sta a fare la vittima perché il vittimismo deve fare un'altra persona quelli che veramente hanno avuto chiusi i canali con decenni di esperienza e milioni di visualizzazioni che devono fare un po' le vittime semmai tuttavia nel momento in cui perché ho detto questa cosa non lo sai non ti sto seguendo io scusami perché sto leggendo i commenti mi sono aperto sicuramente sono più interessante su questo sono assolutamente d'accordo con te comunque niente vi lascio così con prego prego allora le live scusami mi è venuta a mente le live le potete trovare sia sul canale youtube sia nella nostra piattaforma che lì quella rimane assolutamente nei video nei nostri video salvati comunque voi digitate la profezia di Celestino vi esce tutto quello che riguarda la profezia di Celestino prego la Robi Roberta chiede io invece non riesco a capire ho dato tanto ad un'amica ma tanto veramente lei mi ha sempre detto siamo come sorelle ad un certo punto sparisce e non mi dice nemmeno il perché cosa devo fare può essere invidia può essere gelosia può essere che lei ti ha voluto agganciare e non c'è riuscita quella dinamica non si sa quando fai qualcosa di buono ti prego non ti aspettare nulla in cambio perché non arriva e anche se arriva è insoddisfacente fa qualcosa di buono io dico sempre lo faccio all'universo no lo faccio all'universo e di conseguenza poi mi ricorderà indietro non mi ritornano indietro non lo so la mia vita è molto fortunata ecco diciamo ho aiutato delle persone ho dato delle chance a delle persone che poi mi hanno assolutamente deluso ho detto benissimo arriverà a qualcosa di bello da qualche altra parte è sempre così è stato a caldo ora faccio il figo a caldo non penso sempre così no magari sono un po' diciamo mi ripeto poi mi ristabilisco e porto avanti questo principio quindi anche se non è istantaneo questo processo però comunque lo adotto prego allora come si chiama il canale da cosa dipende la cattiveria gratuita? dalla sofferenza quando una persona è cattiva nei confronti degli animali dei suoi simili nei confronti anche dell'ambiente è la sofferenza la sofferenza è anche l'intossicazione infatti se tu butti un cartone di pizza per terra con una bottiglia di birra per terra quando andavo a correre nel parco a Milano spesso lo trovavo tu non troverai mai un contenitore di cibo vegano per terra ok? troverai sempre cibo spazzatura fatto che mangiano persone spazzatura che hanno un atteggiamento della spazzatura quindi la cattiveria è la sofferenza Morpheus Morpheus è figo sai? Morpheus infatti dice Luca Harv Eker consigliava di mettersi un elastico al polso e ogni volta si notava un errore fatto lo si pizzicava sentendo dolore in modo da non commetterlo più con me non ha mai funzionato perché sono un uomo libero perché sono un uomo libero caro mio perché se dovessi veri quando si parla della schiavitù la coercizione viene storta con il dolore è una persona evoluta la coercizione le storge con il benessere con la bellezza si ottiene di più allodare una persona quando fa qualcosa anche di brutto si ottiene di più allodare falsamente una persona piuttosto che rimproverare mi ricordo quando avevo il locale che c'erano le cammererie non pulivano mai i postaceneri una volta sono entrato non so come mi è venuto ho detto ho lodato la cameriera perché aveva pulito i postaceneri da quel giorno lì in poi tutti i postaceneri i postaceneri erano il tempo in cui ancora si fumava nei locali tutti i postaceneri erano puliti è stata una grande lezione per me Jack è sono un ragazzo di 47 anni sono vecchietto scherzo come giunale al conforto dice mi figlia hanno 50 anni sono vecchie prego comunque è successo anche a me questa questa cosa di Roby Roberta delle amiche insomma che se ne vanno non è successo sì sapete a me ma anche di recente mi scherzo allora aspetta è che Paolo Scuri giusto? Scuri sì dice buongiorno Luca una domanda fuori contesto la presenza e la concentrazione sono la stessa cosa? grazie un'essenziale un'essostanziale non sono proprio ciao Paolo non sono proprio la stessa cosa quando tu pratichi la presenza non sei concentrato sei ok? quando sei concentrato sei concentrato in una cosa e magari sei anche presente però in realtà sei dentro con la situazione lì quindi sono due cose completamente diverse se vuoi quello che ti raccomando è la presenza mi raccomando andate a vedere se siete interessati in piattaforma gratuitamente ovviamente sapete la piattaforma io ho tutti quei trucchettini per fregare le persone non ve le ho fatti infatti nella piattaforma ci sono 13.000 iscritte adesso a me stanno aumentando di continuo che quando una persona paga un euro per una piattaforma in realtà non è che paga un euro che lo paga tranquillamente non ha problemi è che autorizza il pagamento no? è lì pronto quando c'è qualcosa che vende la piattaforma basta un clic e compri non è che c'è tutto il processo in cui devi mettere la carta eccetera quello l'ha già fatto quando era solo per un euro quindi è un po' una come si dice sapete la vasellina la vasellina ha diversi utilizzi ecco uno è anche quello un po' di vasellinare un po' la situazione se volete ecco diciamo e questa cosa non l'ho fatta per cui la piattaforma è gratuita ecco quindi potete prendere tantissimi spunti tantissime cose gratuitamente digitate nell'occhietto della ricerca nella lente di ingrandimento quello che cercate e di conseguenza lo trovate cerca gli esercizi di presenza ti prego perché comunque ti saranno molto utili ok stavo leggendo posso rispondere a Katia? posso rispondere a Katia? sì certo te ne vai te ne vai te ne vai dal genitore Katia tesoro mio te ne vai perché ci sono alcune parole tu stai cercando una risposta però l'assunto indiscutibile che non puoi andare via lui ti maltratta in quella maniera perché si inutile della tua reazione non lo fa con cattivella lo fa semplicemente perché ha bisogno di questo quindi quando ci sono dei rapporti genitoriali devastanti io vedo delle persone massacrate dal rapporto genitoriale prendi e vai noi siamo l'unica specie animale che insiste si ostina a mantenere il rapporto il rapporto genitoriale anche da adulti in tutti gli altri animali non lo fanno noi siamo gli unici perché siamo strutturati in una struttura che per la sua stessa definizione serve per rendere le persone schiave e per usarle come tali la famiglia quindi non voglio dire che se in una famiglia è potenziante che tutti si vogliono bene non devono andare via ma che ci sono io per dirlo è ovvio ma se ci sono dei problemi importanti il genitore dice oh ascolta mi hai rotto i coglioni ti ho messo al mondo non te l'ho chiesto io anzi me lo stai rinfacciando no vaffanculo e ti va a vivere la tua vita ok è importante questa cosa io sono genitori conosco storie di persone che questi qui quando si azzarda andare in vacanza il genitore sta male collassa questo dalla vacanza ritorna ragazzi non siamo qui per vivere una vita siamo qui per vivere la nostra vita non per fare gli sguatteri a chi si nutre della nostra sottomissione poi vedetela come ti pare vi sto dicendo come una persona si libera una persona si libera anche quando si svincola da queste catene che sono psicologiche prego posso dire una cosa certo mi domanda dire una persona magari va via sì è una situazione che può essere appunto pesante e non si riesce più a sostenere ma se vai via senza risolvere comunque il problema che hai dentro cioè il problema lo porti comunque dietro magari si ripresenta in un altro modo scusa non ti stavo ascoltando stavo leggendo commenti d'altro scherzando allora io ti dico una cosa grazie Dani che mi hai fatto questa domanda hai fatto questa osservazione in realtà la tua non è una domanda perché tu non lo stai chiedendo tu lo stai affermando io sono stato schiavo della mia vita del mio destino per vent'anni quando ero buddista pensavano così questo è un sistema di manipolazione fate attenzione a non farlo i problemi sono alchemici sono attivati da deterrenti che ci sono sono attivati da circostanze che noi viviamo ci sono problemi che si risolvono semplicemente non visitando più quelle situazioni quindi è molto importante il problema non ce lo portiamo dietro potenzialmente io so tutto c'ho il tumore c'è un incidente stradale c'è il fatto di cascare dal tredicesimo piano ma che ne so io c'ho tutto dentro di me ma sono attivati da tutta una serie di circostanze che vado a vivere nella vita il fatto di pensare di stare lì di non scappare dal problema è un modo per tenere schiave le persone è determinante questa cosa voi fate come vi fare vi sto parlando della mia esperienza io ho vissuto io ho vissuto vent'anni siccome la mia vita la sapete sono una persona insomma che non è che nata con la camicia continuamente mi dicevano pensa al tuo karma negativo pensa che comunque hai un karma molto pesante pensa che devi vivere delle cose ma a me questa qui mi sta su coglioni venivo messo dentro a dei gruppi con delle persone nel buddismo che erano delle persone agghiaccianti assolutamente no è importante che tu stia dentro quel gruppo così risolvi il tuo karma e andava sempre peggiorando la situazione sempre peggiorando la mia condizione quando ho capito che il karma non esiste perché come ce lo fanno comprendere ce lo fanno accettare e ho iniziato a vivere la vita che volevo io la mia vita è iniziata a diventare meravigliosa ora io faccio così a mandare a fanculo una persona ci metto tre secondi se c'è una persona che mi fa un torto c'è qualcosa che non va che non collima con quella che è la mia natura ciao vai ciao via da coglioni ma senza problemi e vi sembro infelice vi sembro una persona risolta vi sembro una persona che affanna che affanna nella vita questo è quello che ho imparato da questa lezione non cadete in questa espressione new age dove i problemi non ce li portiamo dietro i problemi sono attivati da delle circostanze se tu togli la circostanza ti allontani dalla circostanza in questa maniera tutti liberi dalla situazione inizia a essere una persona viva quante persone continuano a stare vicino al loro problema nel tentativo di risolverlo perché altrimenti sennò scapperebbero e sono ancora lì irrisolti quando mi dicono delle persone sono stato lì a un certo punto risolto non hanno mai risolto l'ho vista con i miei occhi hanno soltanto spostato il loro problema non ce la faccio niente questa questa è la mia la mia esperienza eh sì intendo che comunque se cioè penso che se comunque una persona nonostante arriva magari in un contesto così e non se ne va cioè se rimane lì ma dentro ha fatto comunque un cambiamento e comunque cambia fuori o perlomeno o perlomeno può cambiare il modo di di sentire cioè l'emozionalità l'emozionalità cambia non è più la stessa questo è una questa è un'altra cosa che tu stai dicendo questa è una sfumatura tu hai detto tu hai detto ho detto sì ho fatto presente un aspetto e ti ho risposto in maniera abbastanza nitida nel senso non giusta secondo me giusta però nitida quanto meno sì adesso sta dicendo una sfumatura e questa è una sfumatura e questo potrebbe essere vero abbiamo parlato adesso del frilling però ci sono delle situazioni che sono per esempio ci sono delle situazioni amicali di persone che si detestano e continuano a stare insieme per paura di potersi scollegare per tutta una serie di deterrenti di cui sono convinti io sto parlando se però c'è una presa di coscienza allora la presa di coscienza tu quanti problemi tu hai questo modello che stai dicendo adesso no? quello che conta la vita l'esperienza tu hai risolto dei problemi in questa maniera? non so se sei frizzato o sei rimasto di merda sparito sparito oddio mi sto sparire tutto ok ok allora non so se mi senti tu cioè di buono che sei molto bella Dani no? scriveci allora ecco tu hai risolto i problemi ah ci sei io ho visto non sapevo più forse sono stata frizzata io non lo so sì ma o forse ero io un po' come il cretino che pensa che siano gli altri cretini nel mio caso ovviamente penso che in realtà ero io quindi forse ero io e ero frizzato ti ho chiesto tu hai un modello che adesso hai messo in evidenza tu con l'applicazione di questo modello mi hai risolto dei problemi? allora sì ho migliorato delle cose no vabbè sono cose personali ho migliorato no 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 allora io credo che questo modello sia totalmente fallace questa è una riprova e poi mi dici che sono cose personali chiaramente crederti in questa cosa non credo in questo modello d'approccio ma no nel senso che non voglio parlare di altre persone lo capisco però anche potrei fare un esempio quando io parlo dei miei modelli che secondo me funzionano metto in piazza la mia vita per questa ragione ok quindi io credo che questo modello però se posso includere altre persone parlare di altre persone non lo posso fare non le dà un nome e un volto? no no ok io non credo in questa risoluzione passiamo adesso alle persone prego e vabbè ognuno ha le sue esperienze nella vita certo allora eccolo qua cosa hai messo? Aurora basta leggo questa che l'hai messa Luca concordo sul discorso buddismo conosco non vedo l'ora che tu possa parlare del karma ho la sensazione che mi troverai d'accordo se una persona mi troverai ah sì mi troverai d'accordo sei una persona molto profonda con esperienze profonde veri grazie tesoro ah volevo leggerti questa Rosita Mancuso che chiede Luca un abuso come lo risolvi non è mentale ma razionale allora mentale e razionale è molto simile ok dipende da dipende da tante cose dipende dal vincolo che tu hai con questa persona se per esempio una persona a cui tu hai avuto magari naturalmente dai fiducia e quindi ti ha tradito anche la fiducia in questo senso dipende dal fatto che questa persona ti ha procurato un abuso e chi doveva proteggerti non l'ha fatto dipende da tantissime cose solitamente quando c'è un perdono il perdono va sempre bene quasi sempre bene però quando il perdono non è maturo perché una persona allora si abnega e dice ma io perdono la mia vita e per l'altra invece ti stai stai uccidendo una parte di te che così da non sentire questo rigore questo profondo rancore che senti è peggio ecco quindi si risolve allora gran parte dei miei traumi che ho avuto per fortuna non ho mai subito abusi però non ho subito tantissime altre cose ne ho sempre fatto poi alla fine un'attitudine per andare a fare qualcosa di utile in mezzo alle persone quindi questo potrebbe essere uno spunto da lì poi succede l'elaborazione pratica perché tu vedi attraverso la persona che va a aiutare anche tutto quello che è il disagio che comunque ti è riguardato eh prego facciamo Dani facciamo altre due domande poi chiudiamo dai allora ah c'è Simona che dice Luca ieri si parlava di un audiolibro della profezia di Celestino lo avete trovato non lo trovo dice no nemmeno io nemmeno noi abbiamo cercato con Sonia e non l'abbiamo trovato se però ne hai bisogno ci mandi una mail con questa richiesta e troviamo luca.nalichiocciolenzion.com allora ecco Elisa Ambrosetto ci dice Luca hai detto più volte che dormi poco come fai? non ti senti stanco? e poi chiedo la pineale non ho bisogno di molte ore di sonno per funzionare bene? sì ma io sono già Elisa ma sono un iperattivo visto no? per cui faccio una quantità di cose impressionanti credo e quando mi addormento la sera penso a quella che devo fare il giorno dopo quindi questo per me è un grandissimo deterrente poi normalmente il mio ciclo circadiano è fatto in maniera tale che faccio una penneca e l'alto morigio come le persone anziane sai quindi recupero un pochino lì però normalmente do molto poco diciamo sono molto affascinato interessato alla mia vita e non vedo l'ora di viverla ma questo dipende dalle caratteristiche delle persone in senso ci sono persone che dormono di più Sonia dorme 4-5 ore in più di me per esempio e non è che una vita di merda insomma è una bellissima vita e dipende proprio dalle caratteristiche della persona allora c'era Araba Fenice che chiedeva come riconosci la musica a 432 hertz ma allora se è per effetto di una ricerca basta semplicemente ricercare musica a 432 su YouTube oppure anche su Spotify tutti quelli che sono i provider di musica e le trovi e se la ricerca è in questo se la domanda è in questo senso scrivi così 432 hertz oppure HZ ma anche 432 sono numeri comunque poi si riconducono sempre a quel tipo di musica non so se questa è la domanda vuoi che leggiamo ancora delle ma sì dai questa qui poi andiamo questa qua allora il nome farà un bender ciao Luca come si fa a capire il limite che si può dare agli altri prima che si tolga troppo se stessi grazie con l'esperienza io sempre ho sempre esagerato nel fatto di dare no talvolta ho alimentato il mio senso di colpa inconsapevolmente perché quando si dà tanto lo facciamo inconsapevolmente alimentiamo il nostro senso di colpa pensiamo di non essere adeguati quindi cerchiamo di trovare il modo di scolparci il più possibile nei confronti del giudizio altrui dando tantissimo lo fai con l'esperienza piano piano una persona si modula quando una persona solitamente non do a chi chiede ecco do sempre spontaneamente questa è una cosa mia però non è esportabile anche questa quindi tutti cali di piano piano e alla fine poi ti regoli preferisco sbagliare dando di più piuttosto che non è che la mia vita è solo il dare attenzione non è che sono un caramilitano scalzo però comunque sono molto generosa a dire il vero ecco e questa generosità ha sempre fatto sì che la vita fosse molto generosa con me questo è un dato di fatto però ti regoli di conseguenza ho aiutato molte persone in ultimo un amico con tantissime migliaia di euro sfinite che poi alla fine mi sono accorto che se ne sta approfittando io continuo a vivere una vita florida lui è una vita sciagurata però insomma quindi se proprio dovessi vedere non per una questione di rivalza se dovessi vedere la giustezza di modello dico occidenti è giusto il mio modello ho sbagliato però in questo senso ho esagerato però in questo senso la mia vita non mi è stata sacrificata per questo l'ultima 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 eh Tiziana dice ciao Luca il fatto di dormire è poco può essere che vuoi tenere tutto sotto controllo no ciao Tiziana no 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 perché non vado a controllare vado a creare quando lo stimolo più grande è quello di di creare delle situazioni no o edito un video oppure lavoro sulla piattaforma e adesso in questo momento quando non mi vado a leggere un libro capito no 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 poi nel senso ognuno ha un po' la maniera del controllo non penso sia tra i miei difetti più eclatanti a essere sincero no nonostante sia in una posizione eh di questo genere però per esempio per quanto riguarda Sonia no se si parla di una condizione di eh di coppia non ho mai controllato nemmeno un attimo cioè cosa fa cosa non fa zero qua perché anche la fiducia ovviamente è grande però comunque anche perché non è non penso sia nelle mie attitudini se ne fanno altre basta vuoi? ehm sì allora beh questa ovvio mi capisce eh Dario Zeta dice siamo co-creatori se ci troviamo in una situazione c'è comunque una parte di noi che non è in armonia allontanarsi è solo il primo passo siamo co-creatori se ci troviamo in una situazione c'è comunque una parte di noi che non è in armonia allontanarsi è solo il passo eh eh sì io quello lo rinforzo assolutamente perché le persone quando ero dentro la setta no ehm setta buddista in avvalla quello che ho detto prima a viva voce per vent'anni c'erano delle cose che non mi andavano no e gli dicevo ma io non mi piace stare qui no questa setta buddista no quando si parla di setta buddista loro si arrabbiano un po' però in realtà hanno tutte le caratteristiche della setta Maria Immacolata Maciotti determinò che fu una setta e per questa ragione è stata bannata è stata una sociologa che loro avevano accolto anche per dire lo dica lei che è di fama nazionale no se questa è una setta dopo un po' che l'ha studiata dice sì se è una setta proprio così no comunque sono una setta e quindi hanno un leader carismatico inopinabile l'unica cosa non si versano tutti uguali però hanno delle ritualistiche il controllo che accomunano tutta l'altra e quando io lamentavo questa cosa mi dicevano se però tu esci no ti porti dietro questo problema avrai problemi in altre situazioni e soprattutto questa cosa tu non la risolvi no dal di fuori la risolvi standoci dentro ho dato letta per vent'anni per vent'anni non ho risolto nulla ovviamente quando poi dopo il viaggio astrale il giorno dopo il viaggio astrale ho deciso di andare via dalla setta allora a quel punto ho iniziato a vivere una vita meravigliosa ho risolto il mio problema ecco per sempre non mi sono mai più ritrovato in circostanze a quella maniera da doverle gestire da doverne soffrire anzi quando poi mi è successo di andare a carezzare situazioni molto simili l'ho riconosciuto e subito è grazie a quell'esperienza quindi trovo assolutamente che quello che dici tu Alessandra sia assolutamente vero proprio bene tesoro andiamo? chiudo? sì Dani sì basta no questo qui dai Luca sì Luna Sole dice Luca perché trovo amiche con segno zodiacale di mia sorella che non mi cerca mai grazie non lo so Luna Sole tesoro mio non lo so dove si chiede la Marco Fischetti magari ti dice o qualcosa di appropriato io non lo so non guarda queste cose perché spesso sono anche coincidenze che noi notiamo soltanto perché ne mettiamo in evidenza alcuni aspetti che poi non sono magari la totalità del fenomeno però noi isoliamo un po' il nostro interesse e quindi gli diamo diciamo dei connotati di ripetizione però insomma non credo troppo a queste cose ma in maniera così da un po' così non voglio dire effimera però insomma un po' superficiale ecco diciamo bene tesoro chiudiamo andiamo va bene perfetto allora signori io ringrazio chi ha condiviso chi ha messo like e controllate la vostra iscrizione ai canali perché il signor YouTube normalmente li toglie grazie per i commenti grazie per essere iscritti anche alla piattaforma grazie davvero di cuore ci vediamo domani mattina con la profezia numero 7 profezia celestiale sarò assistito da un'altra ragazza vi farò vedere ciao Dani ciao a tutti grazie di tutto ciao a tutti buona giornata ciao a tutti 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 Grazie 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 a tutti